Oh no, questo no! Aspettami! Tesoro, dove vai? È il vestito! Ci serve una torta, una grande torta, una piccola! Nancy! Ups! La testa dello sposo è caduta! Più grande è, meglio è! Una piccola è elegante! Cosa devo fare? Devo sostituire lo sposo! Sì, il Leon di Brawl Stars! Perfetto! Dov'è il mio Arce? È l'ora del selfie! Avrà un sacco di like! È una foto per i social media? Ehi, fotografo! Spostati! Guarda nella macchina fotografica! Grande! Questo è il modo in cui lo fanno i professionisti! Ciao! Oh no! È un disastro! Ragazze, cosa avete fatto? Ma che c'è? Per chi pensate che siano i cartellini? Andate ai vostri posti! Ecco fatto! Oh, Nancy! Oh, così va meglio! Ti piace? Beh, no! Che ne dici di questo? Probabilmente no! E ora? Arci! Tesoro, dove sei? Pensavi di fuggire di nascosto? Seduto! Oh, sei qui! Che ne pensi? È stupendo! Nessuno sposo è mai scappato dal mio salone! Pulisco io! Oh, le cuffie! Fantastico! Ma non sono cuffie! È un anello! E la misura è giusta! Lo terrò! Sposini, scambiatevi gli anelli! Cosa? Dove sono gli anelli? È uno scherzo? Eh, non lo so! Nancy, sono io! Sei pronta per andare al cinema? Ciao! Certo! Oh, no! Non sono pronto per sposarmi! Che gli succede? Nancy, ho quasi finito! Questi non vanno bene! Troppo rossi! Sì, l'ho preso! Troppo bianco! Il bucchè di nozze è mio! Nancy, smettila di scherzare! Ridammi i fiori! Sì! Quale vestito devo scegliere? Il ballo è dietro l'angolo! Non vedo l'ora! E la regina è... No! E la regina del ballo è... Ovviamente Nancy! Oh, grazie mille! Anch'io vi voglio bene! Tesoro, ho una sorpresa per te! Wow! È un vestito! Chiudi gli occhi! Cosa? Mamma, no! Sono stufa dei vestiti da sposa! Quattro luglio! Compleanno! Halloween! Indosso un vestito bianco ogni volta! Ti piace questo? No! Nancy, tieni qui! E questo è... Nancy! Wow! Interessante! Cos'è? Mamma! È Woohoo Shorts il mio canale preferito! Davvero? Iscriviti a Woohoo Shorts! Metti un like e clicca la campanella! Tesoro, prendi un po' di torta! No! Oh! No! La colazione è pronta? No! Cosa c'è per prezzo oggi? Oh no! Non posso più guardare queste torte! Questo sarà il miglior arco nuziale di sempre! E uno! E due! E la palla va in porta! Mamma! Nancy! Gol! Evviva vittoria! Nancy! Cosa ne pensi? No! Lo sposo non va bene! Cosa? Come vuoi! Il prossimo! Che carino! Non esiste! Ehm... No! Che maleducata! Wow! Mi piace! Fantastico! Ma cambiamo la sposa! Nancy! Tesoro! Che coppia perfetta! È già mattina! Davo alzarmi! Preparo il mio tè preferito! Teletro! Occhiali! Una tazza è noiosa! È ora di fare colazione! Questo è molto meglio! Oh mamma! Non di nuovo! Sì mamma! Certo! Sto tenendo d'occhio il posto! Ups! Oh! Cosa faccio? Cosa faccio? Le forbici naturalmente! Taglierò via la macchia di caffè e nessuno se ne accorgerà! Questo velo è perfetto! Cosa? C'è un buco gigante qui! Non se ne è accorto nessuno? Che giornata! Devo solo contare i guadagni! Fatto! E invece degli elastici posso usare le giarrettiere! Perché no? Cos'è successo? Sono al college! Giusto! Le ragazze sono qui! Ragazze! Vi presento il nostro nuovo sposo! Cosa? Che carino! Perché indossiamo abiti da sposa? Nancy! Vieni alla lavagna! Io? Bene! Strano! E ora lancia il bouquet! Ehi! Tutto qui? Molto male! Ti prendi una F! Che spigata! No! Era solo un sogno! Oh, Bob! Puoi fare di meglio! Chris! Pessimo! Nancy! Ben fatto! È tutto corretto! Ti do una A! E profumo di agrumi e glitter! Questo è il miglior lavoro di tutta la classe! Allora, riporto il 2 e uno smiley! Nancy, cos'è quello? Sorridere fa sentire meglio! Non in classe! Ora chiamo tua madre! Buona fortuna! Sì, ma chi è? Non ho tempo! Sì, sta scrivendo! Non risponde! Sì, è quello che fa! In questo caso, dai a tua madre un invito ufficiale! Ok, lo farò! Verde? Verde? No! E il giallo? No! Rosa? Rosa! No! Voglio quelle scarpe! Le scarpe Popit sono l'antistress preferito di Nancy! Le prendo! Non esiste! Ma pagherò! Non sono in vendita! Soldi? Tira più forte! Sono fantastiche! Ti piacciono? La guardia al negozio di matrimonio è molto severa! Fermo! Non puoi portare i tuoi anelli! Oh, ma sono così felice! Entra! Stop! Per ridarmi l'anello! No, no, no! No! Non il mio anello! Oh sì! Lo voglio! Fermo! Dammi il tuo anello! Entra! E il mio anello! Prendilo! Cattivo! Ridammi l'anello! Ecco! Dov'è l'anello? Oh no! Questo è l'ultimo! Prendilo! Mostro! Perché? Finalmente conoscerò tua madre! Ci siamo! Quella è Nancy? Con un ragazzo! E vengono qui? Oh no! È troppo presto per lei per sposarsi! Non c'è niente per un matrimonio qui! Abbiamo finito i vestiti e le scarpe! Salve! Scusate, il salone è chiuso! Sembra che la mamma abbia lavorato troppo! Ti è piaciuto il video? Scrivi qui sotto cosa ti è piaciuto di più! E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella! Per non perdere nessun nuovo video esilarante di Troom Troom!